La Consob ha sospeso Mind Capital per 90 giorni. Vi ho raccontato tutto in questo post del mio blog, di cui vi metto il link in descrizione, dove trovate anche il link al bollettino ufficiale sul sito della Consob, con il quale l'agenzia governativa sospende in via cautelare per 90 giorni il sito Mind.Capital. E infatti, se andiamo su Mind.Capital, in questo momento a me dà accesso vietato, perché probabilmente hanno chiuso temporaneamente il sito, visto che è sospeso. Ma perché Consob ha preso questa iniziativa? Dovete sapere che non è la prima volta che lo fa. Tutto ruota attorno alla legge italiana, perché di fatto Mind.Capital stava operando in modo illecito, quindi senza rispettare le normative italiane. Facciamo un passo indietro. Dovete sapere che in Italia, per legge, chiunque promuova degli investimenti che promettono dei rendimenti, può farlo solo se ottiene dalla Consob l'approvazione del proprio prospetto informativo. Ebbene, Mind.Capital non solo propone questi investimenti che promettono dei rendimenti in Italia senza l'approvazione della Consob, ma non ha nemmeno presentato il prospetto all'agenzia che si occupa della vigilanza sui mercati finanziari. Quindi sta operando al di fuori della legge, diciamo così. Questa cosa accade più spesso di quanto ci si possa immaginare. Infatti la Consob ha già chiuso centinaia di siti proprio per questo motivo, perché operano senza la necessaria, obbligatoria approvazione. Sul mio blog cito due casi simili, che sono già capitati in passati, ovvero LiraCoin e Testline, o ne ho già parlato anche in altri video. L'anno scorso un avviso ufficiale di Consob sospese sia l'offerta di LiraCoin che quella di Testline. Testline dopo scammò, cioè in poche parole, chiuse portandosi via tutti i soldi dei propri utenti, mentre invece LiraCoin provò a resistere, poi però ad un certo punto decisero di chiudere, ma di trasformare il loro progetto in WeWe Global. WeWe Global, se volete, sempre nel mio articolo del blog, trovate anche un link ad un articolo che ho scritto sul Cryptonomist con il quale spiego che cos'è WeWe Global. Ora, nel caso specifico, la domanda è che fine farà Mind Capital? Cioè farà come Testline che sparirà con i soldi degli utenti, oppure come LiraCoin e si trasformerà in qualcos'altro, oppure riuscirà a farsi approvare un prospetto dalla Consob e ad andare avanti? Io sinceramente non lo so, reputo quest'ultima ipotesi la meno probabile. Anzi, vi dirò di più, esistono altri servizi simili a Mind Capital in Italia, io sinceramente sono dell'idea che potrebbero rischiare una fine simile, cioè una sospensione, da parte della Consob. Quindi, mi raccomando, fate molta attenzione perché quando qualcuno in Italia vi propone degli investimenti che promettono dei rendimenti, ma senza un prospetto approvato dalla Consob, è sempre a rischio chiusura. Quindi fate molta attenzione. Poi, se avete ancora dei dubbi o delle domande, ricordatevi che potete sempre contattarmi via email perché via email io rispondo sempre a tutti. Ah, un'ultima cosa, se volete sul gruppo Telegram Criptovalute Italia, vi metto il link in descrizione, non solo si discute dei criptovalute, ma vengono anche sempre pubblicati tutti i miei video. Un saluto, ciao!